Consolato! 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 Manifestazione di protesta contro la paventata chiusura del Consolato Generale d'Italia-Filadelfia. Un utrito gruppetto di esponenti della comunità italiana con a capo rappresentanti dei comités del CGE hanno simbolicamente occupato la sede del Consolato. Tutti hanno rimarcato a viva voce sulla necessità da parte del Ministero degli Esteri di soprassedere all'intenzione di procedere alla chiusura della sede consolare, che eroga i suoi servizi su una circoscrizione abbastanza vasta e che copre la seconda, in termini numerici, comunità italiana più numerosa d'America, dopo quella di New York. Simbolicamente il comités di Filadelfia insieme ai membri più esponenti della comunità italiana è qui riunita stamattina con una simbolica occupazione del Consolato in manifestazione di protesta contro la possibile chiusura di questo Consolato Generale che chiaramente sta molto a cuore agli italiani. Insieme qui, potete vedere, sono state raccolte oltre 8.000 firme di petizioni, lettere di protesta da tutte le parti, anche da esponenti politici dello Stato della Pennsylvania, anche il Governatore ha manifestato la sua, diciamo, un po' contrarietà a questa chiusura di Consolato. Ritengo che è estremamente importante mantenere questo Consolato aperto. Il distretto consolare di Filadelfia è il secondo più grande degli Stati Uniti, dove risiedono migliaia e migliaia di italo-americani e italiani, quindi non possiamo assolutamente chiuderlo. Siamo degli emigranti con cittadinanza americana, però abbiamo bisogno di questo Consolato che sia aperto. Se chiudono questo Consolato italiano sarà un dispiacere per tutti, perché è troppo lontano da qui andare a New York per un stato di famiglia o un qualche cosa. Con Enzo Centofanti, noto esponente della Comunità Italiana, chiediamo quali sono le iniziative che i Comites e la Comunità Italiana stanno prendendo per impedire la chiusura di questo Consolato? Non sono iniziative molto efficaci, perché è difficile fare delle iniziative di questo genere. Noi non possiamo metterci contro il nostro Ministero degli Affari Esteri. Vogliamo dare solamente dei suggerimenti. Vogliamo solamente chiedere al Ministero degli Affari Esteri come si è arrivati a una decisione così assurda. Sono sicuro che il nostro Sottosegretario non può conoscere le situazioni di centinaia di Consolati, quindi ci deve essere un ufficio competente che dà suggerimenti al Ministro. Ma in questo caso si è dimostrato assolutamente incompetente, perché scegliere un distretto consolare come Philadelphia con sette stati, distanze migliaia di chilometri, non è accettabile una decisione di questo genere. Quindi è chiaro che le iniziative ci sono anche, sono state a Pittsburgh, ci sono state iniziative di proteste, nel North Carolina ci sono state iniziative di proteste, in tutti i nostri viciconsolati onerari, lo stesso anche a Baltimore. E mi auguro che il nostro Sottosegretario prenderà in considerazione questa situazione. Una circoscrizione importante come quella di Philadelphia, dove numerosa è la comunità italiana, rischia la chiusura del consolato. Motivi tecnici o motivi politici? Io ritengo che si tratti di motivi tecnici, ci sono dei motivi, come sappiamo viviamo un momento difficile dal punto di vista economico, esiste un piano di ristrutturazione consolare, della rete diplomatico consolare, che dovrebbe consentire un certo risparmio. E Philadelphia è ricompresa in questo piano. Come dicevo, decisioni operative riguardo questo consolato generale non sono state ancora prese, tuttavia il consolato generale di Philadelphia rimane in questo piano triennale 2009-2011. E i disagi per la comunità? Quali potranno essere? Io credo che la comunità debba avere tutta la mia personale solidarietà, perché in effetti così consistente, così qualitativamente di spessore, 22.000 sono gli iscritti a Elire, ma probabilmente gli italiani sono molto di più. Philadelphia, come lei sa, è sede anche di un importante filiale dell'Augusta Westland. L'intenzione, ma si tratta ancora di piani che devono essere messi a punto, perfezionati, eccetera, eccetera, sarebbe quella di dividere le competenze di Philadelphia tra Newark, New York e Washington. A seconda, lei come sa, la circoscrizione non comprende soltanto la Pennsylvania, ma il Delaware, parte del New Jersey, parte della Virginia, Maryland. Quindi sì, credo che effettivamente per la comunità la chiusura di Philadelphia possa essere un disagio. La Pennsylvania ha contribuito alle elezioni di due parlamentari italiani. Nonostante questo vogliono chiudere il Consolato e creare grossi disagi alla comunità. Diciamo che l'iniziativa che era stata presa qualche anno fa di chiusura adesso comincia a essere un po' rivista, per fortuna. Ma la minaccia rimane sempre, siamo qui per quello, perché se la minaccia fosse terminata non saremmo qui a fare questa protesta. Volevo dire, volevo sottolineare alcune cose, perché molte altre sono state dette bene dal nostro amico Centofanti e dal Consolo. Io, dal punto di vista mio, essendo già stato parlamentare, quindi posso anche fare qualche considerazione politica, e questa licenza, diciamo, ancora mi rimane. Voglio dire questo, secondo me è una decisione sbagliata, perché la seconda comunità più grande e più importante, dove è nata l'America, che è Philadelphia simbolicamente, sarebbe uno schiaffo anche verso il governo americano, di una, come dire, scarsa considerazione di quelle che sono le esigenze effettivamente locali americane. Le lettere di protesta che sono arrivate, dicevo prima, sono oltre 8.000, abbiamo fatto una petizione popolare. Molte di queste non arrivano solamente alla Pennsylvania, ma arrivano anche da New York e da New Jersey. Lo voglio sottolineare perché? Perché questo grande numero di italiani, che sarebbe costretto ad affluire a New York, che intaserebbe quello che già un consolato, due consolati già molto intasati, dando delle, come dire, delle problematiche non indifferenti ai cittadini italiani. Pensiamo che fra meno di un anno si dovrà cambiare il passaporto con un passaporto nuovo che sarà particolare contro le contraffazioni. Quindi tutti gli italiani dovranno cambiare il passaporto, diciamo, nuovo, dovranno recarsi in consolato per fare questo. Noi pensiamo a migliaia di persone che arriveranno a tutte le parti del nord-ist degli Stati Uniti, intasare dei consolati è impensabile. Per cui abbiamo bisogno di quell'attenzione che meritiamo noi italiani all'estero, perché italiani all'estero non sono più quelli di una volta, ma sono italiani che si sono inseriti e fanno parte del tessuto sociale non indifferente dello Stato in cui, diciamo, si trovano. Hanno contribuito alla costruzione degli Stati Uniti e sono orgogliosi di essere italiani. Cerchiamo di considerarli almeno un po' più al di sopra degli estracomunitari che vengono considerati in Italia. Io mi permetto di dire questo perché oggi l'attenzione in Italia va soprattutto a chi arriva in Italia e non a chi è partito dall'Italia, che è italiano e merita di essere riconosciuto come tale. Iniziative parlamentari da parte dei deputati e senatori eletti all'estero? Certamente si stanno muovendo in questo senso. Devo dire che con apprezzamento sono tutti stati contrari alle chiusure dei consolati. Da questo punto di vista posso dire che l'accordo è stato di parte, sono da tutte le parti politiche, sia di destra che di sinistra, perché ovviamente l'interesse dei cittadini italiani è quello che loro rappresentano e quello di vedere che abbiano dei servizi. Razionalizzare servizi non vuol dire tagliare servizi, vuol dire offrire più servizi a meno costo. Questo almeno io intendo, credo che quello che il governo italiano intenda è proprio anche questo. Quindi rivediamo un po' meglio queste posizioni e diamo forse un maggiore aiuto a quei consolati che si trovano già in difficoltà, come Filadelfia, che invece di cancellarla ha bisogno di un aiuto maggiore perché i servizi non sono pochi. Basta considerare da un punto di vista tecnicamente culturale. Filadelfia ha emesso quasi 6.000 visti a studenti americani che vengono a studiare nelle università italiane, significa esportare la cultura italiana all'estero a costo zero, gratuitamente da parte dei giovani americani che vengono, vi stando qui in questo consolato, a studiare in Italia. Non vogliamo che vengano scoraggiati a fare questo. Quindi l'attenzione va un po' rivolta in tutti questi settori. Qui è nata l'America, dove sta scritta la Costituzione americana e da dove è nato questo grande paese. È proprio qui che noi non possiamo far morire l'Italia.